E dopo aver ascoltato una voce importante e prestigiosa come quella della rivista tedesca ci apprestiamo a conoscere uno dei 30 fortunatissimi selezionati produttori della giornata di oggi intanto diciamo come sta andando questa degustazione che è cominciata per una fascia ristretta di stampa ma si sta allargando al pubblico. La manifestazione è affollatissima e di questo ne sono molto felice e in un senso anche molto preoccupato perché essendo anche produttore di vino alto attesino vedendo tutto questo interesse per il Riesling tedesco dobbiamo stare molto attenti per quanto riguarda la produzione nazionale. Questo potrebbe anche essere un dato rilevante che commenteremo più avanti. Adesso restiamo sul Riesling. Quali sono i pregi e i difetti di un prodotto come questo ma soprattutto in quale modo si può produrre e se le valenze di quello che viene prodotto oltre alpe è veramente un elemento significativo che contraddistingue il prodotto. Beh credo che da anche produttore di vino italiano posso affermare che se parliamo di Riesling dobbiamo parlare di Riesling che crescono oltre alpe, quelli austriaci, quelli alsaziani ma soprattutto la produzione tedesca con le sue varie zone. Se vogliamo avere il Riesling numero uno a livello di mondiale dobbiamo andare lì. E proprio perché anche produttore diciamo altoatesino se ho ben capito, ecco quali sono le differenze di produrre in Italia e produrre altrove? Cioè proprio a livello di sia di conformazione di territorio quindi che cosa si incontra quando si va oltre alpe ma poi soprattutto anche dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Beh direi che a livello di organizzazione del lavoro è uguale sia in Italia che in Germania per quanto riguarda il Riesling è una questione climatica in Germania ma soprattutto ha una questione di terreno perché i terreni che abbiamo in Germania soprattutto lungo la Mosella ma li ritroviamo anche lungo il Reno praticamente il scisto, questo sasso che praticamente lo troviamo fino a mezzo metro di profondità dà delle caratteristiche uniche a questo bellissimo vitigno. Quali sono queste caratteristiche uniche? Descriviamole. Ne abbiamo in mano un esempio, un campione, descriviamolo. Beh anzitutto abbiamo una grande freschezza una grande freschezza e molto tipico dei Riesling tedeschi questa acidità spiccata. Poi soprattutto quando sono giovani abbiamo queste note di canna di fucile poi quando invecchia e per invecchiamento intendo dai dieci anni in su abbiamo anche questo lieve sentore di petrolio che è molto tipico del Riesling però mi ripeto da dieci anni in su se un Riesling giovane sa di petrolio allora è successo che l'uva ha preso troppo sole e questo è un lato negativo perciò a tutti gli appassionati del Riesling petrolio sì ma da dieci anni in su. Perfetto quindi abbiamo già delle caratteristiche ben evidenti segnate e segnalate chiaramente non tutto può arrivare ai nostri video ascoltatori però c'è una cosa che vogliamo dire lei è un giovane produttore inutile negarlo quando ha deciso di fare questo grande salto, grande cambiamento. Beh anzitutto grazie del giovane produttore questo è sempre stato un mio sogno di produrre un grande Riesling in Alto Adige sì lavoriamo anche con il vitigno Riesling però come ho detto prima non dà i risultati come li dà in Germania e perciò ho sempre avuto questo sogno di produrre un grande Riesling in una notte di degustazione abbastanza allegra con un collega tedesco già molti anni fa gli ho depositato questa mia idea di produrre un Riesling affinché dopo qualche anno è arrivata la telefonata e mi ha detto guarda Martin mi pare che ho trovato qualcosa che potrebbe fare a caso tuo e da lì è partita questa avventura e l'annata 2014 di questa azienda che si chiama Dr. Fischer e sì è la prima annata prodotta in Germania da me grazie per la visione! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!